Rieccoci, rieccoci, beh insomma la discussione è proseguita, io ci aggiungo degli ulteriori elementi così andiamo anche sull'Inter E fai male, guarda, fai male, perché è già tardi No, c'è ancora la parte Inter e poi saluteremo i nostri amici Ma non vogliamo chiudere il capitolo Zirze sulle commissioni Basta, è soffrendo La questione del Manchester United è vera, nel senso del contatto con Chiar Giorgione c'è stato Solo che il giocatore al momento sta ancora aspettando il Milan Il Milan ha ancora Zirze in mano, basta che paga le commissioni Però deve pagarle Commissioni che non ha pagato per Turam, che non ha pagato per Gulerra Ma Zirze ha un contratto in cui è lui che decide dove andare Perché io sono stato a Bologna perché tutti vanno a pranzo con uno caldo Io sono stato a Bologna e mi hanno detto che di tutto il gruppo l'unico che decide dove andare è Zirze Dunfris non so se decida da solo dove andare Ma oggi ha rilasciato delle dichiarazioni che vanno un po' nel senso di stare con l'unico Io vi faccio una domanda Dunfris è poco L'anno scorso Zirze dove giocava? Nel Bologna Forse non ve ne siete d'accordo di nessuno No, no, io non parlo di questo campionato, l'anno prima È due anni che ha a Bologna Come ha giocato? Ah, tu dici l'anno prima, insomma l'anno prima era il vice di Arnald Non giocava Allora, aspetta, adesso facciamo Torniamo a questo di quest'anno L'ultima partita, una decina di partita, come l'ha giocata? Eh, in calo Poi ha avuto l'infortunio Ma di che parliamo? Se no ha avuto tutto quello che volete Però secondo me, guardate questo qui è un giocatore super valutato Fidatevi di me Bravo, bravo, sicuramente Però super valutato Io di Chimere non ho viste tante Per esempio Calafiori Dove giocava prima di venire a Bologna? Basilea Chi ne parlava di Calafiori con la nazionale? No, con 5 milioni te lo prendevi due anni fa Allora, guardate Allora vi dico che la maglia del Bologna è pesante Ma non pesante come quelle che indicano Praticamente competitive Per cui bisogna stare attenti anche alle Chimere Perché le Chimere certe volte possono Ma poi soprattutto di Calafiori dobbiamo dire anche un'altra cosa Che se al posto di Manai c'era Cristiano Ronaldo Parlavano di un'altra cosa Sì, ma l'abbiamo detto in apertura Ma vi va rimarcato Perché l'altra sera con l'Albania È vero che lui fa una bella prestazione Di personalità Sbagliato Calafiori Calamoroso Gravissimo Favano giocare contro nessuno Che se segna Che se segna Voglio sentire poi la pagela di Calafiori Perché quello E invece la sera Cosa sentiamo? Il Bologna chiede 50-60 milioni E no, è no E no, ha ragione allora Luciano Scusami Cioè quello è un giocatore Che ha fatto bene quest'anno al Bologna Molto bene al Bologna Ma può valere Io l'altra sera ero al processo di Biscardio E Amelia Che è amico di Calafiori Ha detto Ma per me la valutazione di Calafiori È 25 milioni Quella è la valutazione Ma chiaramente c'è Bologna Adesso Il problema di fondo per Calafiori Il problema di fondo per Calafiori Oggi è che il Bologna Può fare il prezzo E in quel prezzo Ci deve mettere il 50% Da dare alla basilea Quindi di fatto Se io ti chiedo 40-20 l'intasco Se te ne chiedo 25 Vuol dire che l'intasco 12 Quindi Bologna fa il prezzo più alto Che può Per prendere la metà Ragazzi scusatemi Voglio farvi vedere però Le parole di Dunfris Perché abbiamo anche amici interisti A casa che ci seguono E oggi Dunfris ha parlato Dicendo Si è interrotto il mulino bianco Penso che il mio futuro Sarà all'Inter Quindi attenzione Dunfris che sembrava dover partire Dice che invece Crede di restare È un grande club Di cui sono innamorato La gente e i compagni di squadra Sono come una famiglia per me All'Inter mi sento a casa Da tempo stiamo discutendo Del mio rinnovo Ma il club era in difficoltà economiche Ora c'è una nuova proprietà Durante gli europei O magari dopo Vediamo cosa accadrà Non è un segreto Che mi piacerebbe giocare in Premier Quindi lascia comunque Una porta aperta Amo quel campionato E il mio stile di gioco Si addice al calcio inglese Ma è una benedizione di Dio Che io possa giocare nell'Inter Dove ho vinto sei trofei In tre anni Questa è casa mia E la mia famiglia è felice a Milano Il mio sangue è nero-azzurro Questa è la mia famiglia Cioè sono dichiarazioni d'amore Sì e poi Io mai al Milan O alla Juve Amo l'Inter Ma nel calcio non si sa È fantastico Cioè dice tutto Il contrario di tutto È partito con questa intervista Che le prime top Possiamo dire Che anche Dunfris È contraddittorio Molto contraddittorio Dunfris è contraddittorio E per contraddittorio Inter è legano Ibrahimović Luciano dimmi Ibrahimović Dunque io Ho preso Ibrahimović Emerson L'ho presi Quando a Monte Carlo C'è la Formula 1 Il giorno della Formula 1 Tant'è che poi Ho mandato Romigai A far ripetere a loro La Formula 1 Eccetera Il giorno dopo Ecco Sapete che mi disse Ibrahimović Io c'ho mio padre Che è viventino Quindi pensate Che il padre La famiglia è un po' disgregata Quindi Tanto per dirvi I giocatori Si manifestano così Ma è pure giusto Eppure giusto Se hanno un obiettivo di andare Eppure giusto Che dicano questo E poi magari Come ha fatto Ibrahimo Se lo fanno tanti Riescono a dare il massimo A se stessi Nell'interesse della società Dove vanno Questo certo Sono professionisti Però mi fa sorridere Che un giocatore dica L'Inter è la mia famiglia Il mio sangue E poi gli chiedono Ma Andresi al Mino Alla Juve Dice mai dire mai Cioè Allora lì potresti dire No lì non andrei Andrei da altre parti No ma paradossalmente Apprezzo di più l'onestà Nel dire Io non so Se l'anno prossimo Mi devono vendere C'è solo il Milan Io vado al Milan Cioè non è che resto a piedi Ma chi lo vuole Ma lascia stare il discorso Però sei partito Dicendo una cosa Giuro amore Il mio sangue interista Poi Sapete perché Adesso vi dico L'Inter partirà favorita Per questo campionato Quindi tutti i giocatori Vorrebbero andare all'Inter Su questo non c'è dubbio Anche perché lì C'è la migliore dirigenza Tanto per essere chiari Beppe Marotta E Ausilio Praticamente sono i migliori Che ci sono nel campionato Il problema di fondo Sapete dove sta È che adesso La Juventus Praticamente Cambia allenatore E quindi dovrà cambiare Anche dei giocatori Il Mila Deve cambiare Dei giocatori E l'allenatore Il Napoli Ha cambiato allenatore Questi sono tutti i vantaggi Iniziali Che all'Inter Beh l'Inter è l'unica Che non cambia L'Inter è l'unica Anche l'Atalanta Sì ma non è L'Atalanta Non la vedo Competitiva Per il campionato L'Atalanta Perché fa sempre Cose buone E guardate Che è un grande allenatore Per esempio Giampiero Gasperini È la fortuna Di percarsi Perché Giampiero Gasperini Tutti gli anni Li cambiano I giocatori Li vendono quelli buoni Li danno dei ragazzetti Guardate De Keteler Quest'anno È un esempio Ma mica solo De Keteler E lui li rivalorizza Praticamente E sarebbero pronti Per essere venduti Quindi Questa qui di Giampiero È veramente Una cosa Però il suo habitat Naturale Perché Guadagna l'ire di Dio È stimato E tutto No no ma sono d'accordo Sono d'accordo Che lui infatti Si muove dall'Inter È casa sua Insomma l'Atalanta Ma sì ma Sapete che Hai in mente L'esperienza all'Inter E quella lo frena È rimasto scottato E ma lì c'erano Moratti Sì beh lì Successe veramente di tutto Cioè furono due mesi Elena Parlavamo di Atalanta Mi è venuta in mente Questa domanda L'affare Lukman Che più o meno Equivale Come gol A Zinze Quanto vale sul mercato? Giusto Non ci sono offerte Per lui Quindi in realtà Il prezzo lo fa il mercato Certo lo fa il mercato Però credo che per l'Atalanta 40-45 Almeno Se mai nel finale 60-65 Credo che No Allora Nel Bologna C'è uno che sa vendere e comprare Ma nell'Atalanta C'è un super Che è per Cassi stesso Che sa vendere e comprare Praticamente C'è una tattica Un po' particolare Che deriva Dall'uomo Che praticamente È imprenditore Lui compra bene E vende meglio Questo è il concetto E l'Atalanta Fa le cose buone Voi vedete che Vincere un'Europa lì Che nemmica una barzelletta No Anzi Poi battendo il Liverpool Il Bayern Leverkusen C'è una grande Europa E poi Essendo Essendo l'Atalanta Perché non sei Una grande squadra Che ha un trascorso Sei l'Atalanta Che è cresciuta negli ultimi tempi E adesso Si è meritata Questa coppa Arrivano intanto Notizie Sparse Scusami Emanuele Magari me le puoi confermare Belotti al Como E sono già un paio di giorni Che stanno trattando Il Como sta cercando Una prima punta Stava cercando Una prima punta vera Per la promozione Serie A Tanti nomi Sono stati sondati Proposti Offerti Belotti Era quello che Era più concreto E anche una sorta Di ritorno a casa Vicino a casa Perlomeno lui Cresciuto fra Bergamo Albino Leffe Eccetera Si ritrasferisce Qua al nord Fa 13 gol quest'anno Col Como Belotti 13 sono pochi Per me ne fa di più Attenzione Guarda che è un buon allenatore Perché Fabrega Fabrega Per me ne fa anche di più Infatti Belotti farà tanto bene al Como Per me ne fa di più No dicevo per chiudere per Dunfries Il problema di fondo Anche per Dunfries È sempre lo stesso Cioè Ha rinnovato Barella Sta rinnovando Lautaro È praticamente fatta E tutto Manca solo la firma Lui si vuole equiparare All'inizio Non vuole arrivare a quelle cifre Però vuole salire Stanno salendo tutti Vuole salire anche lui Lui è a 3 Con i bonus E vuole arrivare A 4 e mezzo 5 E l'Inter A quelle cifre Oggi non gli vuole arrivare Semplicemente Però diciamo che è un effetto Vi ricordate Quando venne Berlusconi Chi vuole seguire il Milano Ha fallito No Cioè tu dici Quelli che cercarono Di fargli concorrenze Bisogna andare piano E adesso Prima non erano Erano società sportive La maggior parte Ora sono società per azioni Si porta libri in tribunale E praticamente ci vogliono Gli avvocati Quindi il problema È leggermente diverso È ritorno È ritorno Di discorso E anzi Lo amplio Guardate Quando c'è stato Il decreto crescita Hanno criticato pure Che il governo Ha fermato il decreto crescita Sapete che succedeva Che siccome gli stranieri Venivano pagati poco Andavano a comprare le grappoli Chi ne comprava due Chi ne comprava tre Insieme Invece adesso E questo è un bene Anche per il calcio Per chi l'ha capito Quando adesso Il dirigente Va a comprare uno straniero Adesso che lo paga Come paga l'italiano Ci dovrà pensare molto Anziché prendere tre Ne prendere uno E sarà un beneficio Per il campionato italiano Perché attenzione Il campionato italiano Che era il più bel torneo Adesso è appena il terzo Il campionato adesso nostro Vedete che c'è una fuoriuscita I giocatori Tutti sognano la Premier Nel 2006 Poco più Tutti sognavano Il campionato italiano Questa è la differenza Quindi Gravina Se stesse a zitto Guadagnerebbe tante occasioni Perché è lui Il colpevole di questo Perché quando c'era Il decreto crescita Che gli stranieri Venivano a grappoli Lui poteva dire Fate Siccome c'è la libera circolazione Comprate quello che volete Però In campo ci vanno Cinque giocatori Di questi qui Questo avrebbe tutelato Entrambe le cose Di questo avrebbe